La provincia dell'Aquila ha approvato il rendiconto della gestione 2023. 24 milioni di avanzo per i nuovi investimenti. Molto soddisfatto il presidente Angelo Caruso che ha definito questo risultato eccezionale. Con i fondi del PNRR si vanno a liberare risorse per scuole e viabilità. I dati parlano chiaro. C'è stata una riduzione delle spese di gestione di ben 2 milioni di euro nonostante i vari rincari. Il fondo cassa è di 180 milioni di euro. Il patrimonio mobiliare è aumentato di 12 milioni di euro. Il rendiconto, così come era avvenuto per il bilancio di previsione approvata a dicembre, ha avuto l'ok in anticipo. Nelle disponibilità economiche della provincia ci sono anche fondi del PNRR per l'edilizia scolastica per 12 milioni di euro che arrivano a 16 con la quota della provincia. Poi 7 milioni dal fondo complementare riservati alla viabilità. I fondi del PNRR daranno impulso a molte opere pubbliche. Saranno usati per l'efficientamento energetico delle scuole e delle palestre con cappotti termici, sostituzione degli infissi, installazione di pannelli fotovoltaici. Abbiamo registrato una diminuzione della spesa corrente. Io mi permetto di sottolineare questo dato perché lo ritengo importantissimo. Noi abbiamo nel corso degli anni recuperato organico, quindi abbiamo assunto diverse unità lavorative, soprattutto di tipo tecnico e anche amministrativo. Abbiamo acquistato mezzi per le funzioni di manutenzione sulle strade e, nonostante questi importanti investimenti, abbiamo registrato un calo di 2 milioni di euro nella gestione ordinaria, quindi significa che è aumentando di tanto gli investimenti, quindi che superano quota 100 milioni. Quindi è quello che avevamo un po' stabilito, preordinato nelle varie attività di programmazione, quindi un obiettivo importante, quindi calo della spesa corrente e aumento degli investimenti. Grazie. 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 Grazie.